Pippo era l'aereo che eventualmente arrivava, mi traiava il tappeto e con la tappa, calandosi prima e osservando dove doveva colpire. Quando passava Pippo, si scondeva. Il mio padre gli ha detto, stai con te, non puoi mantenere più i miei figli. Parlo se sei capace, ma puoi mantenere più. Abilmente è riuscito a togliere il moschetto e roma. Stiamo venendo a mettere la pittura e la pittura. Ma mio padre è riuscito a levargli la pistola e a rivolgere l'arruino dei fratelli. Stacci il nostro amezzo mariale. Non mettere la vostra spalla un posto di schiame, non mettere il nostro posto di schiame nella vostra spalla. Ok, adesso arriverà. Come da con il tuo. Wow, in tutta la fase è risciuta con le banane. Fate solo i più, ok? E non ci cerciate, ci cerciate, diciamo la banane. Partiamo con la gioia. Fate le più. Io non ho risciuta le banane. Wow, mi sono andata! Mi fanno rossa le banane! Mi sono rossa le banane! Mi sono rossa le banane! Mi sono rossa le banane! Ok, la tristezza. Ok, come se fosse una roba. Non sono andata! Ma come se fosse una roba. Ma come se fosse una roba. No, è questa roba. E' un'altra roba. Ok, la tristezza. Ecco la tristezza. No starei panando. Ma se fosse una roba. No starei panando. Grazie! Ciao! Ciao!